Rottamare l'ora lavoro come unità di misura nei contratti per il salario e immaginare strumenti nuovi che tengano conto dei cambiamenti tecnologici. Il giorno dopo le dichiarazioni sulla scarsa utilità delle lauree in età avanzata per trovare un'occupazione, il ministro del lavoro Giuliano Poletti apre un nuovo fronte sul contratto e l'orario di lavoro. Affermando che l'ora lavoro è un attrezzo vecchio, dovremmo immaginare contratti che non abbiano come unico riferimento l'ora di lavoro, ma misurare l'apporto dell'opera. Immediatamente arriva il no dei sindacati. Bisogna smettere di scherzare quando si parla di lavoro, tuona il numero uno della CGL Susanna Camusso. Bisogna ricordarsi che la maggior parte delle persone fa un lavoro faticoso nelle catene di montaggio, le infermiere negli ospedali, la raccolta nelle campagne dove il tempo è fondamentale per salvaguardare la loro condizione. Molto critici anche Will e Cisla. Lo scontro tra governo e sindacati confederali si fa rovente anche su un altro fronte, quello del pubblico impiego, che oggi scende in piazza a Roma per chiedere certezze e un nuovo contratto che manca da sei anni. Quasi in risposta a questa protesta, il ministro della pubblica amministrazione, Marianna Madia, ieri ha detto che il governo renderà più snelli i procedimenti disciplinari contro i dipendenti pubblici, con un'attenzione particolare a chi fa assenze particolari, reiterate e di massa. Nella notte però è stato finalmente firmato il contratto collettivo nazionale del settore del trasporto pubblico locale, dopo sette lunghissimi anni di negoziati e innumerevoli giornate di sciopero che hanno creato enormi disagi a chiusa ai mezzi pubblici.